Ed eccomi ora a parlare di Agents of S.H.I.E.L.D. sesta stagione. Sesta stagione che viene dopo una quinta che apparentemente poteva anche concludere la serie. Sarebbe stato un finale un pochettino forse insoddisfacente per i veterani amanti dei film Marvel, delle serie TV Marvel e delle connessioni tra loro. Sarebbe stato un finale in cui un Talbot ha accennato all'imminente attacco di Thanos, quell'attacco che abbiamo visto in Avengers Infinity War, ma sarebbe stato un finale in cui non avremmo visto gli esiti di tale attacco. Avremmo avuto invece un finale tutto sommato abbastanza lieto, speranzoso, perché è con la speranza che la cara Simmons va alla ricerca del suo caro Fitz ibernato nello spazio. E agrodolce perché sapevamo sarebbe stato il finale definitivo per l'agente Coulson. Non è andata così. Non è andata così e fra l'altro c'è stato un trucchetto. C'è stato un trucchetto per questa sesta stagione perché si è deciso di fare un po' di cara ignoranza. Si è scelto un pochettino di ignorare la perfetta continuity, apparentemente perfetta continuity che caratterizza il Marvel Cinematic Universe e si è scelto di fare una sesta stagione che anche se non formalmente è di fatto indipendente da quello che è stato l'esito nella storia di Avengers Infinity War e di quello che è stato ormai perché è già passato e o sarà, se è successivo questo film che sto per dire adesso rispetto a questa stagione, Avengers Endgame. Avengers Endgame termina di fatto cinque anni nel futuro rispetto al momento di Infinity War. Questa sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. però non è esattamente cinque anni nel futuro, non è esattamente oltre la data di Endgame. È un anno dopo, è un anno dopo la stagione precedente, ma è un anno dopo, anche se non viene detto, non nello stesso modo, nella stessa continuity se vogliamo, del Marvel Cinematic Universe dei film. Lo sarà, probabilmente la settima stagione, l'ultima stagione pianificata, lo sarà, o lo sarà meglio, lo sarà di più. Ma perché questa confusione? Perché questo voler ignorare di fatto Infinity War? Perché al tempo di Agents of S.H.I.E.L.D. 5, per mantenere la segretezza inerente Infinity War, si è scelto di fare un finale che stuzzicasse i fan, per fargli andare a vedere Infinity War, ma questa stagione non poteva basarsi sui risultati di Infinity War, e non poteva basarsi sui risultati di Avengers Endgame. Il motivo per il quale si è scelto di fatto di ignorare un pochettino quello che poteva essere accaduto nei due film Marvel, gli ultimi due Avengers che abbiamo visto e probabilmente che vedremo, e si è scelto di fare una continuazione diretta della stagione precedente, ignorando il contesto più grande in cui si trovano i nostri personaggi. Il mondo dello S.H.I.E.L.D. è cambiato. Coulson se n'è andato, è andato con la sua cara May a Tahiti a passare gli ultimi giorni, e adesso è Mac il direttore. Un direttore che funziona. Tutto funziona come ci si aspetta che funzioni. La stagione comincia con una Sky che, pardon Daisy, Quake, Tremors, chiamatela come volete, che assieme a Simmons se ne va in giro per lo spazio, assieme anche a Yo-Yo, fra l'altro se non sbaglio, se ne va in giro per lo spazio alla ricerca del caro Fitz, ibernato, che ovviamente viene de-ibernato in tempo zero. Ovviamente paradossi, ovviamente retcon, ovviamente linee temporali alternative che si sviluppano di fatto, cambiamenti della storia. Va tutto bene. Va tutto bene e da questo punto di vista, questa stagione, per tutte queste caratteristiche, che ha anche un altro buon motivo per essere separata dal filone di Avengers Endgame. Perché il rigore legato ai viaggi nel tempo, alle realtà parallele, che in realtà è stato sviluppato prima in Agents of S.H.I.E.L.D. rispetto ai film degli Avengers, questo rigore è stato di fatto infranto. I conti tornano anche in Agents of S.H.I.E.L.D. con tutti questi viaggi nel tempo, ma tornano meglio in Endgame, ovviamente. Però il prodotto è diverso e dobbiamo prenderlo come tale. Agents of S.H.I.E.L.D. è sicuramente una serie più sportiva, se vogliamo. Gli Avengers sono più impegnati per quanto possano esserlo. Dicevo, lo scenario si alterna fra la Terra di nuovo e lo spazio. I Guardiani della Galassia, l'ho già detto in altre recensioni, hanno fatto danni. Hanno fatto danni perché? Perché hanno stravolto il modo di fare cinematografia e storia per questi film. Perché hanno portato la gag, hanno portato lo humor, hanno portato il comico anche in scenari dove normalmente non ci sono. anche in scenari dove la situazione può essere molto complicata, visivamente affascinante, grazie a tecnologia, salti spaziali, eventualmente nel tempo, razze aliene, un po' di tutto fondamentalmente. Tutti insieme, in questo bel minestrone, abbiamo delle battutine magari sulla prosaicità e su quanto è drammatico Mac quando fa i discorsi, oppure quanto non si aspettavano di scoprirsi così di disinibiti sessualmente Fitz e Simmons attraverso i loro alter-eghi. oppure, che ne so, quando Daisy e Simmons si mettono a fare le allucinate, o meglio, si allucinano di fatto con delle sostanze stupefacenti in un pianeta alieno. Tutte queste cose sono cosette, sono chicche, sono battutine fondamentalmente, ma sono abbastanza divertenti. Ma senza i guardiani non ci sarebbero stati. Agents of S.H.I.E.L.D. quindi è di fatto figlia di quello che è stato l'evolversi del Marvel Cinematic Universe. Però, però è riuscita tutto sommato a mantenere una sua originalità. è riuscita a continuare in questo gruppo di episodi 13, se non sbaglio, minore dei precedenti, grazie a Dio. È riuscita a mantenere tutto sommato il suo tono di fondo. Tono di fondo che ha avuto, soprattutto, dalla terza stagione in avanti. Soprattutto la mia cara quarta stagione, che per me è decisamente la stagione più accattivante, tutto sommato. Soprattutto nella parte quella del mondo framework in cui tutto è dominato dall'Hydra. E chi torna direttamente da quel mondo? Ma certo, torna il mio caro Leopold. Torna il Fitz cattivo. Io quando lo vedo mi gaso, mi gaso, mi gaso, mi gaso. Perché? Perché è sempre bello vedere il bravo ragazzo che diventa cattivo. Piace a tutti. Piace a tutti vedere Clark Kent Superman con la criptonite rossa che comincia a fare casini. Piace a tutti vedere, nelle mie cara serie Angel, il caro protagonista che ridiventa o diventa Angelus. Piace a tutti vedere il lato oscuro dell'eroe, tutto sommato. E Fitz, apparentemente il più intelligente di tutta la squadra, è quello che riesce ad essere più oscuro di tutti, se vogliamo. Non è credibile una Daisy cattiva. Non è credibile che nessuno di questi personaggi sia malvagio. Ma è credibile che ci possa essere una specie di sociopatico, come è Leopold, che mette a fare fuoco tutti. Lo è stato questo sociopatico nella quarta stagione, nella parte dedicata al framework, e lo è stato di nuovo, e di fatto in una puntata soltanto, in una puntata, il personaggio di Fitz e Leopold, la sua controparte visualizzata in questo caso, perché? Perché, dopo tante traversie, Fitz e Simons si ritrovano e vengono rinchiusi da questa razza Icronicom, vengono rinchiusi in questa sorta di limbo bianco, in questa stanza bianca, assolutamente affascinante come concetto, almeno per me, e si ritrovano in questo mondo in cui ci sono soltanto loro e devono confrontarsi. Devono confrontarsi per vedere a che punto sono e per vedere se possono risolvere il problema che gli viene posto. una puntata bellissima, quella di, secondo me, la più bella della stagione, e forse meriterebbe un film a parte, un soggetto del genere, chissà. Che cosa non mi è piaciuto molto? Un po' di cose, in realtà. Non mi è piaciuto molto tutto il discorso legato a Serge, a Sage, Serge, non mi ricordo, Serge, pardon, il personaggio interpretato di nuovo da Clark Gregg, che evidentemente non poteva fare di nuovo Coulson, anche se tecnicamente non credo che abbiam visto Coulson morire, quindi tutto può essere, se non vedi il corpo non puoi dire, è morto, e anche se lo vedi non l'hai detto. E questo Serge, che ancora sto cercando di capire, in realtà, per quale valido motivo avesse l'aspetto di Coulson. Ho sentito una discussione, ho cercato di rivedere le cose, ho cercato di comprendere, ma perché, all'aspetto di Coulson? L'ho anche riletto prima di fare questa mia recensione, ancora non l'ho capita, onestamente, sta cosa. Morale della favola? Non me ne frega niente. Non me ne frega niente perché tanto è un pretesto. Lo prendiamo per buono, però, in una stagione da 22 puntate, puoi allungarmi un po' di più, puoi farmi un pochettino di più il dramma legato al cattivo che ha l'aspetto del tuo ex ragazzo, se sei Melinda May. Però, in una stagione da 13 puntate, questa cosa non me la puoi fare tanto. Ma non me la puoi fare tanto questa cosa perché, fondamentalmente? Perché c'è poco tempo, perché non puoi dargli una vera enfasi. O se la dai, rischi di tagliare le gambe ad altre cose. In realtà non c'è stata tutta questa carne al fuoco, tutta questa storyline in questa stagione, e quindi non ci sono stati grossissimi problemi legati al conflitto interno e all'esterno, del fatto che questo qua era uguale all'ex capo dello S.H.I.E.L.D. che è stata veramente la due lire, perché io ancora vado a lire, l'ha trovata di andare a recuperare un LMD, un fantoccio tecnologico, e anche aggiornato di tutto punto, con le fattezze di Coulson. Non mi è piaciuto rivedere di nuovo Coulson in maniera cibernetica, così, perché non è vero Coulson. A me non servono dei fantocci, a me serve il vero Coulson. Non me ne frega niente di vedere delle versione alternative, questo e quello, quell'altro. Il personaggio di Coulson, fra l'altro, nel framework era anche il meno interessante di tutti, in tutto sommato. Cavolo, era più interessante Simmons che come regola era morta. Di cosa stiamo parlando? Non lo so. Il finale, in realtà, è stato veloce. È stato veloce perché? Perché in 4-4-8, Aizel, la cattiva, venuta fuori pian pianino durante la stagione, che apparentemente ha orchestrato la cosa, ha provocato il fatto che questo Sarge avesse l'aspetto di Coulson e orchestrava tutto l'ambaradan con questi cavolo di monoliti delle scorse stagioni che non ne possiamo più, sembra quasi l'Hydra, questa cattiva viene fatta fuori nel giro di poco ed era una cattiva potentissima, potente quasi ai livelli del buon, anzi, del cattivo World, Hive, o come lo volete chiamare. Non lo so, non mi ha convinto fondamentalmente questo cattivo, non mi ha convinto nel cattivo Sarge, nel cattivo Aizel. E se mancano i cattivi, obiettivamente in una serie supereroistica, in una serie con degli eroi, allora chi combatti? O chi vuole vedere combattere? Perché non possiamo starcela menare ormai alla quinta, anzi, sesta stagione, con i conflitti interni. Ormai quelli vanno risolti. Anche me che io io, ragazzi miei, basta! Basta e basta! Fondamentalmente credo che questa stagione abbia patito un po' troppo il evidente mancato legame con la continuity perfetta del filone degli Avengers e degli altri supereroi Marvel. Non perché la sua storia doveva essere doveva essere necessariamente collegata, ma perché ci siamo ritrovati dei salti temporali e delle realizzazioni tanto modeste, tanto modeste che se ci fossero stati dei retroscena del tipo cinque anni dopo o un anno dopo in un mondo che ha avuto gli sconvolgimenti che ha avuto in Infinity War, avremmo avuto magari delle puntate fra virgolette sprecate ma che davano un contorno interessante perché vedere uno shield che di fatto diventava di nuovo sistema di vigilanza in un mondo devastato come è di fatto quello di post Infinity War insomma poteva essere qualcosa di interessante da vedersi. La prossima stagione sarà l'ultima sarà l'ultima per tutta una serie di motivi ultima perché la serie comunque deve finire e ultima poi perché secondo me da bravo complottista io ho la sensazione che la Disney stia cercando di raccogliere ormai tutte le serie collegate al Marvel Cinematic Universe per mettere a disposizione dei suoi canali del suo canale il futuro video on demand service il futuro VOD Disney Plus che arriverà e che promette di dare dei contenuti originali ambientati nel Marvel Cinematic Universe sotto forma di serie e miniserie altamente collegati con i film e assolutamente rilevanti e con personalità carismatiche e storie interessanti finisce Agents of S.H.I.E.L.D. sono già finiti i telefilm legati al franchise dell'X-Man ma quello è un franchise destinato a morire a breve e a essere riavviato e introdotto nel Marvel Cinematic Universe quello lo sappiamo le altre serie che ci sono ancora in giro ad esempio mi viene a pensare a Clock and Dagger allora sono su un canale che credo che sia tecnicamente di proprietà della Disney Freeform se non sbaglio però è più probabile che finiscano un po' nel dimenticatoio come immagino finiranno un pochettino nel dimenticatoio anche i vari Daredevil Punisher e sta gente qua a me dispiace da morire le serie Marvel e Netflix sono quelle qualitativamente superiori rispetto alle altre a mio parere a parte alcune tipo Luke Cage e Iron Fist però mi ci metto la mano sul cuore e mi ci rassegno comunque tornando a noi sono ovviamente contento di rivedere Clark Gregg di nuovo in una versione a mo' di Phil Coulson però che cosa volevo volevo vedere un Phil Coulson che svaniva magari quando ancora erate Haiti a causa dello schiocco sarebbe stato perfetto sarebbe stato perfetto perché perché comunque mi sembra veramente strano che lo staff di Agents of S.H.I.E.L.D. i produttori gli sceneggiatori non potevano sapere nulla di Endgame al momento della stesura della sceneggiatura e quindi fare un Coulson svanito nel periodo post Infinity War e farlo ricomparire nell'ultima stagione ci stava così non lo facevi manco morire ovvio teoricamente moriva subito dopo però insomma era comunque meglio forse di questi camuffamenti improbabili e di questi fantocci che sono un po' stantivo e sanno un po' di poca roba questa stagione quindi mi è piaciuta? Sì mi è piaciuta soprattutto per il fatto che è durata di meno con 13 episodi è andata molto meglio complessivamente rispetto a come è andata quando ne durava più di 20 di puntate però Agents of S.H.I.E.L.D. ha fatto il suo tempo io ormai credo mi dovrò rassegnare a parte per la sua comparsata in Captain Marvel a non avere più Clark Greg e Phil Coulson nei film Marvel e quindi se questa stagione se questa serie non mi permette più di sperare una cosa del genere per quel che mi riguarda è giusto che termini e quindi la prossima stagione è giusto che sia l'ultima stagione di questa serie di questa Agents of S.H.I.E.L.D. è giusto